Modulo 3 Istruzioni per gli incaricati In questo modulo parleremo di Password e credenziali Utilizzo dei dispositivi Controllo e custodia Norme generali Password e credenziali Ogni incaricato deve rispettare le seguenti norme in relazione alle credenziali La password o parola chiave elaborata dall'incaricato su indicazioni del responsabile Deve essere di almeno 8 caratteri e deve rimanere segreta È necessario che essa non contenga riferimenti facilmente riconducibili all'incaricato Ad esempio, non deve essere il nome o il cognome dell'incaricato Il suo soprannome, la propria data di nascita La parola chiave va modificata almeno ogni 6 mesi Nel caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari Essa va modificata ogni 3 mesi Le password ingresso alla rete dei programmi sono segrete E vanno comunicate e gestite secondo le procedure impartite È assolutamente proibito entrare nella rete e nei programmi con altri nomi utente L'incaricato non deve rivelare la password attraverso telefono a nessuno Scriverla in un messaggio di posta elettronica Comunicarla al suo superiore o parlarne di fronti a terzi Dare alcuna indicazione circa il suo formato e la sua lunghezza Rivelarla mediante l'utilizzo di post-it, questionari o altri modelli in uso